Tempo di Sport è il nuovo manuale di scienze motorie e sportive per la secondaria di secondo grado di Lois Reditore. L'edizione verde è completa di tutti gli argomenti, mentre l'edizione arancione prevede alcuni degli approfondimenti solo nella versione in digitale. Tutto il libro in 80 video lezioni. 80 video lezioni sintetizzano tutti gli argomenti del manuale, favorendo la comprensione dei concetti e permettendo la gestione di modalità didattiche alternative e inclusive. L'approccio visuale agli argomenti più complessi facilita l'apprendimento. Nelle pagine dedicate alla cinesiologia muscolare, ad esempio, gli studenti possono visualizzare gli strati della muscolatura e i principali muscoli agonisti e antagonisti coinvolti nei movimenti del corpo. Gli studenti possono verificare in autonomia le proprie abilità e i propri progressi con gli esercizi e i test per l'autovalutazione motoria proposti nelle schede dalla teoria alla pratica. Le icone per l'educazione civica e l'agenda 2030 presenti in pagina indicano gli argomenti collegati ai temi dell'educazione civica e dell'agenda 2030. Ulteriori approfondimenti e materiali per la verifica sono disponibili nel volumetto Le scienze motorie e sportive per l'educazione civica. L'applicazione Appunti di anatomia, scaricabile gratuitamente da Apple Store o da Google Play con il codice di sblocco del volume, mette a disposizione animazioni 3D, test drag and drop ed esercizi interattivi per il ripasso dell'anatomia. Registrandosi su Imparo sul web o usando l'app Scopri Più, si accede alle numerose risorse multimediali del corso e in particolare le 80 nuovissime video lezioni, video animazioni, video lezioni dedicate a temi specifici, audio per le attività di rilassamento e PDF per l'approfondimento degli argomenti. Tempo di sport comprende l'edizione verde completa di tutti gli argomenti, l'edizione arancione con degli approfondimenti disponibili solo nella versione in digitale, il volume e le scienze motorie e sportive per l'educazione civica, il volume Physical Education and Sports in English, le risorse per l'insegnante con sintesi e mappe concettuali, il volume di educazione fisica adattata e inclusiva, dei poster con i tabelloni per i tornei sportivi e sei poster per la classe. Tempo di sport, il manuale di scienze motorie perfetto anche per le modalità didattiche alternative e inclusive.